Nonostante l'invito giunto dalla direzione nazionale a non cercare colpevoli a tutti i costi, nel PD Campano, dopo la clamorosa disfatta elettorale, gli animi sono molto tesi. La riunione del direttivo regionale, inizialmente fissata per sabato 17 marzo, giorno in cui ci sarà anche la visita del Papa Pietrelcina, è stata rinviata. Il governatore De Luca ha chiesto di spostare tutto a martedì prossimo, proprio perché sarà impegnato a presiedere ufficialmente in qualità di presidente della regione. Due giorni in più per riflettere, ma anche per sbollire eventuali astiosità che in queste ultime ore stanno emergendo nel PD napoletano. Di sicuro si vuole evitare quanto è accaduto ieri a Ercolano, durante la prima assemblea del PD provinciale, per fare l'analisi del voto. Doveva essere un'assemblea verità, si è trasformata quasi in una rissa, con la polizia costretta ad intervenire per sedare gli animi tra i dem. La bagarre era stata preceduta da una serie di interventi, ma è stato dopo che Nicola Oddati, grande sconfitto delle primarie, ha chiesto dal palco le dimissioni del segretario provinciale Massimo Costa che il clima, dentro la sala del Mab, è diventato rovente. Non sono mancate urla e spintoni. Un brutto spettacolo che ha costretto a fermare i lavori per dieci minuti prima di riprendere la discussione. A niente è valso anche l'invito di Orfini, che aveva chiesto poche ore prima di fare l'analisi della sconfitta senza puntare il dito. Da Roma, il reggente Martina ha anche chiesto in una lettera ai segretari regionali e provinciali di tutta Italia di congelare per ora le dimissioni. Assunta Tartaglione, che aveva già preparato la sua lettera di addio, resta per il momento alla guida del PD Campano.